ciao a tutti oggi prepareremo la birra analcolica allo zenzero il tempo di preparazione della ricetta è di cinque minuti circa ingredienti sono zenzero fresco sbucciato e tagliato a pezzetti acqua frizzante molto fredda limoni pelati al vivo e zucchero di canna diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna limoni pelati al vivo e lo zenzero chiudiamo con il coperchio il misturino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 8 adesso prendiamo un po sul fondo del boccale versiamo mezzo litro di acqua cassata molto fredda e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 8 composto è pronto filtriamo lo e aggiungiamo lo all'acqua rimanente la birra alcolica è quasi pronta adesso la serviremo con un limone tagliato in due andiamo ad inumidire il bordo del bicchiere giriamo sotto sopra in un piatto abbiamo messo del sale vediamo il bicchiere avremmo creato questo effetto nel bicchiere a questo punto versiamo la birra analcolica ed è pronta per essere servita birra analcolica grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti